buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti a questa lettura per il segno dello scorpione sono scappate un po di carte ma sono troppe quindi a noi ne serve solamente una intanto ragazzi questa vi ricordo che è una lettura sia per coppie che per single e se però non dovesse risuonare con tutti voi vi invito a guardare le letture del vostro segno ascendente o del vostro segno di luna intanto invece per quelli che sentono il bisogno di un qualcosa di più approfondito e personale potete chiedermi una sessione privata tramite email oppure andando sul sito internet e prenotando da soli eccola la nostra cartina la mettiamo qui anche a voi dico che questa lettura è leggermente diversa dal solito perché trovandomi in italia non ho i miei soliti strumenti a disposizione quindi ci sono delle differenze ma comunque vedremo ma comunque vedremo tutto quello che c'è da sapere tutto quello che vi serve e allora scorpioni per questo mese abbiamo una bellissima energia generale quella di una regina di bastoni beh si sa che il segno dello scorpione è uno dei più sexy dello zodiaco questo è abbastanza scontato ma quando abbiamo un'energia da regina di bastoni diciamo che il vostro sex appeal sarà ancora più evidente per questo mese e beh trattandosi di un mese caldo d'estate sicuramente anche il vostro abbigliamento non sarà da meno e vi aiuterà tantissimo in questo nell'apparire assolutamente attraenti ricordate ragazzi che la regina di bastoni è una figura che sta proprio a rappresentare l'elemento fuoco nel suo senso più sensuale più attraente una regina di bastoni uomo o donna che sia è qualcuno che si fa guardare si lascia osservare anzi ecco appunto qualcuno che quando passa per strada di certo non passa inosservato ma agli occhi puntati addosso e questo vale sia per appunto il modo in cui magari si veste si trucca nel caso in cui sia una donna ma al di là di questo al di là di questo anche in jeans e scarpette da tennis con un'energia del genere uno scorpione davvero non passa inosservato perché il magnetismo è quello che colpisce quello che cattura l'attenzione e il magnetismo è un qualcosa di energetico non è un qualcosa che si può creare con cose esteriori con accessori o con atteggiamenti di chissà che tipo questo è un qualcosa che riguarda il vostro corpo energetico e ciò che riguarda il corpo energetico parte dalla mente e cioè dal vostro modo di pensare e dal sentire dal vostro modo di sentire e sentirvi e dato che gli astri sembrano appunto portarvi in questa direzione io credo che farete davvero scintille credo che catturerete l'attenzione di tante persone questo mese per quanto riguarda i single quindi ecco single sicuramente al top e per quanto riguarda chi è in coppia anche in questo caso si tratterà di coppie veramente belle coppie che agli occhi degli altri appariranno belle invidiabili e certo è vero ed è sempre vero che ciò che appare fuori non è sicuramente quello che c'è dentro ma guardando anche le carte che ci stanno intorno quando questo sembra comunque un buon mese per gli scorpione sembra in ogni caso un mese in cui non ci saranno delle grosse difficoltà anzi più che i normali più che le normali piccole cose di tutti i giorni io credo davvero che sarà un ottimo mese nell'ambito delle relazioni ma adesso vediamo un po che cosa accade per chi è in coppia o meglio prima andiamo a vedere prima andiamo a vedere le due colonne che cosa ci dicono quindi stiamo un po attenti a vedere a vedere le carte uno di voi si troverà nella colonna di destra il vostro partner o la persona con cui state interagendo si troverà in un'altra colonna quindi quale delle due colonne sarà la vostra e quale sarà dell'altro lo capirete man mano che leggerò ma intanto vediamo che chi si trova nella colonna di sinistra si sente come una un 4 di bastoni e ciò che prova per l'altro è un sente di denari desidera un asso di bastoni si comporta come la ruota della fortuna e ciò che non dice è un 6 di denari dall'altro lato abbiamo una persona che si sente come la forza prova un fante di coppe desidera un re di coppe si comporta come un 2 di denari e ciò che non dice è il 3 di bastoni iniziamo per chi è in coppia e vediamo un po allora coppie come dicevo un bel mese un mese nel quale obiettivamente non vedo grossi problemi anzi sembra che se c'è qualcosa da risolvere più che altro sarà da risolvere al di fuori della coppia e non tanto all'interno probabilmente probabilmente state ma questo vale sia per chi sia per chi è in coppia che per chi è single quindi lo dico per entrambe le categorie questo mese più che altro punterete alla parte più materiale della vita quindi punterete a focalizzare la vostra attenzione sul denaro sul lavoro e sui progetti che riguardano il denaro magari avete appunto dei progetti state iniziando a considerare la possibilità di fare determinate cose per incrementare le vostre entrate i vostri ingressi e questo sicuramente alla coppia porterà un grande beneficio anzi vedo proprio qualcuno di voi che sta pensando di portare in vacanza il proprio partner qualcuno che sta pensando di far qualcosa grazie magari a questi soldi che dovrebbero arrivare o che potrebbero entrare se i vari progetti che sono nell'aria andranno in porto vedo davvero che questo vi dà la possibilità di fare dei progetti in coppia e di fare delle cose che magari aspettavate da tanto che desideravate da tanto quindi ecco che più che altro se ci sarà qualcosa su cui puntare l'attenzione e su cui concentrare gran parte delle proprie energie è questo in vista di viver bene la relazione i single beh ovviamente è chiaro che essere single squattrinati non è come essere single con qualche soldino in tasca ed è chiaro che per quanto riguarda ad esempio gli uomini poter offrire una bella cena alla persona che vi interessa o comunque poter far vedere che siete in grado di prendervi cura di una donna o di un uomo in generale come donne essere autonomi e autonome economicamente autosufficienti anche questo è importante non per il puro materialismo della questione perché io apprezzo tantissimo quelle coppie in cui uno dei due lavora e si prende cura dell'altro mentre l'altro si occupa della casa si occupa dei figli si occupa di tante altre cose ecco non importa se nel vostro dare e ricevere date e ricevete la stessa identica cosa ciò che importa è che entrambi diano e ricevano in ugual misura quindi io posso dare a te io posso occuparmi di te economicamente ma tu puoi occuparti di me sotto tantissimi altri punti di vista quindi ecco non mi riferisco proprio a quello ma mi riferisco al fatto comunque è che anche chi è single si sentirà molto più sicuro di sé pensando di avere qualche soldino in più in tasca e ad ogni modo ritornando appunto alla questione energetica del magnetismo sentirsi economicamente materialmente a posto avere la sicurezza una base su cui appunto poter costruire la propria vita questo è molto importante dal punto di vista energetico perché conferisce un grande magnetismo da sicuramente una sicurezza in più alla persona che si riflette poi anche dal punto di vista energetico o meglio in realtà si riflette sotto tanti tantissimi punti di vista ed è per questo che in periodi come questo in cui invece tante persone stanno avendo difficoltà dal lato economico sarebbe importante comprendere come attrarre abbondanza e voi sapete come la penso non basta la legge d'attrazione per attrarre abbondanza cioè nel senso non basta la legge d'attrazione spicciola che si trova online ci sono delle dinamiche molto profonde che ci legano alla questione denaro e io dico sempre prima o poi vi farò un video corso su come attrarre l'abbondanza e più passa il tempo più mi convinco che davvero sarebbe utile a tantissimi di voi e non solo a quelli che me lo stanno proprio chiedendo espressamente ma ecco vi dico questo per gli scorpioni sarà comunque un buon mese quindi se avete davvero in mente progetti che vi possono portare a qualcosa di buono su questo assolutamente fateli infatti potrebbe arrivare anche qualche proposta da fuori ma questo magari me lo racconterete nei commenti scendendo invece un po più nell'ambito prettamente emotivo e relazionale la persona che si trova da questo lato sicuramente è sicuramente è qualcuno che sta aspettando l'occasione per far qualcosa guardate un po con questa ruota della fortuna c'è davvero la c'è davvero questa idea che al momento giusto e con l'occasione giusta si potrà far qualcosa di molto interessante e questo sette di denari dice che la stiamo aspettando l'occasione la state aspettando uno di voi voi o il vostro partner con un forte desiderio di partire in quarta con un asso meraviglioso un asso di bastoni diritto che quindi promette anche bene perché qualunque partenza venga fatta con un bel asso di bastoni come questo non può far altro che andar bene dall'altro lato ecco nella posizione dei segreti c'è un sei di denari che sta proprio ad indicare questo scambio fra questa persona e l'ambiente esterno perché dall'ambiente esterno che arriveranno tanti input che poi avranno ripercussioni positive all'interno della coppia si tratta solo di aspettare si tratta solo di star buoni e attendere il momento giusto con la ruota della fortuna e credo proprio che questo mese riceverete questa notizia o comunque vi accorgerete che è il momento giusto che qualcosa si sta muovendo e che qualcosa sta arrivando a voi dall'altro lato abbiamo una persona che desidera in effetti qualcosina di più bisogna dirlo questa persona desidera qualcosa di più dalla relazione dal proprio partner ed è una persona che non voglio dirla così si sta accontentando perché sembra brutto dire si sta accontentando e non rende comunque l'idea qui non stiamo parlando di un accontentarsi perché ecco magari per qualcuno sì per qualcuno è un accontentarsi nel senso guarda mi accontento di te anche se non sei non mi piace abbastanza o non sei esattamente quello che voglio ma non è questo per la maggior parte qui ci si sta accontentando del del presente ci si sta accontentando in attesa di qualcosa che può arrivare dopo di qualcosa che sta in realtà arrivando e che già nell'aria perché si tratta comunque di una relazione in crescita una relazione in miglioramento una relazione in cui due persone stanno davvero lavorando bene e al di là appunto dei piccoli screzi che possono esserci nella vita quotidiana qui si sta lavorando per imparare per crescere insieme per imparare l'uno dell'altro ed ecco che chi sta da questo lato vorrebbe qualcosa di più ma sa che è solo una questione di tempo c'è un'attesa c'è un'attesa anche da questo lato con il tre di bastoni nel mentre durante questa attesa con il due di denari comunque ce la caviamo alla grande questa persona se la cavalla grande e offre la sua coppa offre la sua piccola coppa qui ragazzi vi faccio anche una domanda perché vorrei che me lo commentaste voi o meglio qualcuno di voi qualcuno che siate voi o che sia il vostro partner qui dice che offre i suoi sentimenti in forma di fante ma vorrebbe offrire i suoi sentimenti in forma di re ecco la mia domanda è perché perché se qualcuno vuole offrire i suoi sentimenti in forma di re offre invece i sentimenti come un fante cioè offre meno di quello che vorrebbe offrire cosa c'è che non convince al cento per cento questa persona a lasciarsi andare perché c'è qualcosa che ostacola un'apertura totale un lasciarsi andare totale si vorrebbe di più e si vorrebbe fare di più e invece si rimane un po lì in attesa ecco che questa energia di attesa per lo scorpione questo mese abbastanza chiara ed abbastanza evidente solo ed esclusivamente per una piccolissima parte di voi per fortuna ragazzi c'è il desiderio di qualcun altro e cioè da questa parte c'è una e qua ve lo devo dire perché si tratta comunque di quelle coppie che non se la stanno passando benissimo e ci sono essendo stese generiche bisogna davvero considerare un po tutto ed è ovvio che ed è ovvio che c'è un po di tutto in giro qui io vedo qualcuno di voi che vive in una coppia in cui uno dei due non è davvero soddisfatto del proprio partner e vorrebbe una persona più matura vorrebbe una persona più adulta però dal punto di vista mentale dal punto di vista emotivo ed ecco che qui torniamo all'accontentarsi torniamo all'accontentarsi di quello che c'è finché c'è ma con un desiderio di maturità e addirittura forse con un desiderio proprio di un'altra persona l'anima ha bisogno di sperimentare difficoltà per imparare altrimenti non nasce nemmeno non viene proprio su questo piano dimensionale non le importa niente di venire qui a far la bella vita obiettivamente ragazzi parliamoci chiaro la bella vita la fanno su altri pianeti non su questo qui si viene per imparare ciò che possiamo fare cercare di farlo al meglio e con la serenità quindi ecco vediamo un po perché single perché single mese da super fighi mese in cui abbiamo voglia di prendere iniziative abbiamo voglia di conoscere o comunque mentre ecco qualcuno di voi vorrà conoscere persone nuove e avrà voglia di incontrare la persona giusta e non si accontenterà semplicemente di conoscere di fare conoscenze poco appaganti o comunque con persone che non sono sul nostro livello che non sono in sintonia con noi che non sono sulla nostra stessa frequenza ecco che invece per qualcun altro si tratterà comunque si tratterà comunque di aprirsi aprirsi al contatto con gli altri darsi l'opportunità di sperimentare anche cose nuove e situazioni nuove in realtà c'è una sorta di attesa anche perché single c'è una sorta di attesa quindi sembra che un po tutti stiamo aspettando o di incontrare la persona giusta oppure che quella persona che noi abbiamo già docchiato da tempo quella persona con cui noi abbiamo già interagito abbiamo già avuto a che fare magari chissà siamo magari già stati insieme o comunque abbiamo già condiviso qualunque cosa sia ecco che state proprio aspettando che qualcosa si muova su quel campo che qualcosa si muova in quella direzione per i single che hanno bisogno di far nuove amicizie vedo vedo che non sarà difficile non sarà difficile il fatto è che le persone che si incontrano vanno conosciute meglio di certo non di certo non partirete in quarta non farete il passo più lungo della gamba ma se state conoscendo gente nuova lo farete con lo farete con una certa serenità con la consapevolezza che con o senza partner comunque voi state bene lo stesso e questa è la cosa più importante e questa è l'energia giusta con cui conoscer persone con cui avvicinarsi a qualcuno e durante i percorsi di coaching infatti è molto importante portare il cliente la persona a star bene con se stessa altrimenti purtroppo non conviene nemmeno attrarre qualcuno perché se voi attraete qualcuno in un momento in un periodo in cui non state bene ciò che accade al 99 per cento dei casi è che incontrate qualcuno che non vi farà star bene sul lungo termine ma può darvi magari una gioia momentanea ma poi purtroppo determinati problemi e determinate dinamiche brutte escono fuori quindi cosa si fa si fa che prima si sta bene con se stessi ecco che cosa si fa questo è il centro di ogni percorso di crescita personale sia che voi facciate percorsi di coaching privatamente sia che voi facciate videocorsi sia che voi facciate qualunque cosa il percorso è questo però però per quelli di voi che sanno già cosa vogliono sanno già chi vogliono qual è la situazione la situazione è il fatto che voi siete pronti a prendere l'iniziativa assolutamente siete pronti a farvi avanti aspettate davvero solo l'occasione giusta di avvicinarvi a quella persona nel frattempo magari state anche conoscendo qualcun altro sì perché il 6 di denari nella posizione dei segreti parla comunque di persone amicizie situazioni nuove che possiamo nelle quali possiamo conoscere persone interessanti ma la verità è che stiamo sempre ad aspettare lì state sempre a guardare in una direzione a desiderare qualcosa di specifico e se non siete voi comunque è qualcuno che lo sta facendo con voi cioè se non siete voi ad avere qualcuno sott'occhio c'è qualcuno che ha sott'occhio voi che vi desidera che aspetta un gesto e aspetta un cenno perché pensa che voi potreste essere la persona giusta perché pensa che che la felicità potrebbe essere lì dove siete voi che sia vero o no ragazzi questo lo sapete voi oppure se non lo sapete lo scopriremo solo vivendo quello che c'è dall'altro lato comunque al di là di questa persona che guarda vuole desidera ed è pronta ad agire c'è invece qualcuno che non è poi così pronto ad agire anzi c'è qualcuno che si sta fortemente trattenendo dal compiere azioni troppo avventate qui c'è qualcuno che prova un interesse sì prova un interesse vorrebbe che questo interesse fosse grande spera che questa cosa possa diventare grande ma non è sicura non è sicura perché la persona che sta da questo lato vuole davvero un un amore completo vuole davvero un amore totalizzante e fin quando non è sicura di avere quello di fronte non si lascia andare ecco perché abbiamo tre carte che parlano comunque di osservazione parlano di analisi abbiamo la forza che dice che questa persona si trattiene abbiamo il due di denari che dice che questa persona si sta giocando sta giocherellando sta un po qui un po lì sta con un piede dentro un piede fuori ma in realtà sta tenendo d'occhio la situazione perché perché tener d'occhio e osservare ciò che accade è l'unico modo per poter scegliere bene e quindi ecco che qualcosa viene offerto da questa persona sì questa persona offre una parte di sé fa vedere il suo interesse fa vedere che vorrebbe magari avvicinarsi ma ma sempre con questo desiderio di qualcosa di più ora per alcuni single questa persona desidera proprio qualcun altro ha anche un altro interesse ed ecco che vuole prima magari capire che cosa accade vuole capire con chi ha a che fare e vuole capire se con quell'altro interesse potrebbe esserci qualcosa di meglio oppure no dunque dunque è tutta da giocare è tutta da giocare poche coppie nasceranno questo mese la maggior parte di voi invece prenderanno il tempo per osservare e per capire davvero se c'è compatibilità e se abbiamo a che fare con la persona giusta ma adesso vediamo un po che cosa c'è che cosa ci dice la nostra cartina che cosa ad aggiungere un due di spade esatto questo due di spade conferma un po l'incertezza che abbiamo descritto finora e conferma il fatto che in effetti è meglio aver le idee chiare prima di buttarsi e di lanciarsi potrebbero esserci più opzioni lo sappiamo gli scorpioni hanno spesso più opzioni ma potrebbe anche se l'altra persona ad avere più opzioni o semplicemente a non esser sicura di quello che ha di fronte e quindi a non esser sicura di come gestire bene la situazione in che direzione andare quello che posso dirvi comunque è che entrambi avete l'interesse a avete l'interesse ad andare avanti con la vostra vita relazionale avete l'interesse entrambi a vedere che cosa l'universo ha da offrire ed ecco che se questo qualcosa che l'universo ha da offrire vi viene dato e vi viene dato in modo chiaro e bello sì siete pronti a coglierlo ma se invece quello che vi viene offerto non vi convince al cento per cento allora non avete di certo tutta questa fretta infatti non posso fare altro che dirvi bravi non abbiate fretta le cose migliori non vengono mai fatte di corsa le cose migliori vengono fatte e nascono quando tutto il nostro corpo il corpo fisico il corpo energetico il corpo mentale quando tutti i nostri corpi sono d'accordo che quella è la cosa giusta da fare o che quella è la persona giusta con a cui avvicinarci con cui con cui darci l'opportunità di sperimentare qualcosa di far nascere qualcosa non è un mese in cui le decisioni verranno prese correndo di sicuro nessuno farà ruzzoloni dalla montagna ma piuttosto ci prenderemo vi prenderete il tempo per vedere bene qual è la strada migliore per voi per il resto ragazzi io come sempre spero di esservi stata utile e noi ci vediamo alla prossima